dai che carini tutti arrivano guarda che belli ma ce n'è per tutti e perci Quello è da solo l'arcanziano. E non c'è questa data si può scartare. Ciao! Noi anche il salato. Noi anche il salato. Noi anche il salato. Lo devono mangiare, lo devono appoggiare per terra. Quando lo appoggino per terra c'è un cazzo. Noi anche il salato. 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 Noi anche il salato.